Quando è carnevale tutto può accadere, basta che lo voglia lo potrei ottenere, ad esempio io che sono uomo divento donna e mostro gambe lisce sotto questa gonna, ad ogni bel ragazzo voglio dare amore offrendogli un assaggio del mio grande ardore e fra una foto e l'altra lungo il corso, mi sembra di partecipare ad un concorso, mi sento bella come Miss Italia affascinante e desiderata come Blasilaria, tutta Putignano brama le mie forme, tanto che mia moglie in quei giorni se non torno non dorme